Stava lavorando su un macchinario e si sarebbe infortunato al piede per cause ancora da accertare. Protagonista della vicenda è un operaio dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, che nel pomeriggio di ieri, nel corso del secondo turno di lavoro in fabbrica, è stato trasportato presso il pronto soccorso del locale Nosocomio dell'Annunziata per tutte le cure del caso. I sanitari, all'esito degli accertamenti e delle consulenze mediche, li hanno diagnosticato un ematoma giudicato guaribile con una prognosi di circa una settimana. L'operaio è stato quindi dimesso e sulla vicenda sono in corso le dovute verifiche da parte del competente dipartimento della ASL Avezzano-Sumona-L'Aquila, che si è recato sul posto come da prassi. Non siamo ancora in grado di descrivere la dinamica e l'entità del danno riportato dal lavoratore. Ci impegniamo a fare tutte le verifiche del caso, a mettere in piedi le iniziative necessarie, necessarie, assicurano dalla Fiume Cigiele della provincia dell'Aquila. Fortuna che l'incidente sul lavoro si può raccontare. Non ha avuto insomma grosse conseguenze sull'operaio, a parte lo spavento e la preoccupazione.